Ciao Glitters e bentornati sul canale! Oggi nuovo quiz LOL! Però questa volta sarà un'edizione super speciale! Sì, esatto Glitter, perché il quiz sarà sulle Miracle Tunes! Ti ringrazio tantissimo per essere venuta qui su Glitter! Ma grazie a voi! È un vero onore partecipare a questo quiz! Farò io le domande, vero Glitter? Certo, Giulie! Ah, bene! Poi se faccio tutto bene mi date qualcosa da mangiare dopo? Sto morendo di fame! Sei sempre la solita, bene! Bene Glitters, allora vi presenterò io i concorrenti di oggi! Saranno le sorelle Didi e Daisy! Woohoo! Che bello, che bello, che bello! Sono troppo felice! Vincerò io, vincerò io sicuro! Oh, ciao Giulie! Sono una già grandissima fan! Grazie Didi! Allora poi vedremo se saprai rispondere a tutte le domande sulle Miracle Tunes! E mi raccomando Glitters! Glitters, giusto? Sì sì! Dunque, mi raccomando Glitters! Provate a rispondere anche voi alle domande che faremo alle nostre LOL! Ah, bene! Io sono Daisy e sì, adoro anch'io le Miracle Tunes! Però diciamoci la verità, a partecipare a questo quiz mi ha costretta Glitter! Quindi sono qui solo perché lo vuole lei! Allegrissima come sempre, Daisy! Non ti smentissi mai! Già, e come sempre c'è la nostra valletta, Contessina! Ciao Glitters! Come va? Per questo quiz abbiamo dei premi super speciali! Vogliamo iniziare? Certo, Contessina! Iniziamo subito! Alle camine! Tutto pronti! Molto bene! Allora ragazze, prima domanda, un po' tra bocchetto per chi non ha seguito le ultime puntate! Quante sono le Miracle Tunes? E dovete dirmi anche tutti i nomi! Ha suonato prima, Didi! Woohoo! Che bello! Allora, le Miracle Tunes sono cinque, sono cinque! E sono... sono... Julie, Emily, Jasmine, Charlotte e Sofia! Dai, sul serio! Io credevo fossero solo tre! Avrei sbagliato comunque! Esatto, Didi! Ora siamo in cinque! Punto Viberana, Didi! Prossima domanda! Come si chiamano gli elfi della musica di... Julie, Emily e Jasmine? Ha suonato prima Daisy! Questa è difficile, però se non sbaglio si chiamano Popoon, Rocky e Benji! Esatto, Daisy! Bravissimo! Prossima domanda! Sa come si chiamano i cattivi delle Miracle Tunes! Tocca di nuovo a Daisy! Beh, sì, sui cattivi sono abbastanza informata! Dovrebbero chiamarsi Doku Doku Dan e sono capitanati da Demon, che a mio parere ha uno stile favoloso! Beh, ovvio, è simile al tuo! Bravissima, Daisy! Punto Viberana, Daisy! Devi proprio darmelo rosa, il Viberon! Scusami, Daisy, non ne ho trovato un altro! Tranquilla! Ora che ti penso, prima ho dimenticato di metterti Punto Viberon! Eccolo qui! Qual è la mascotte di Emily? Deve rispondere Vivi! Oh, oh, la so, la so! È Rocky, l'elfo di Ritmi, viola, amante della musica rock! Dai, sul sedio, gli piace la musica rock! Forte! Risposta esatta, Didi! Punto Viberano per Didi! Con questo siete pari! Ultima somanza! Beh, l'ultima è davvero molto particolare! Ehm, chi di voi due vuole cantare un pezzo di sigla delle Miracle Tunes? Ehm, credo abbia suonato solo Didi! Daisy, tu non hai suonato! Ma vuoi scherzare? Non canterò mai la sigla delle Miracle Tunes! E sicuramente non davanti a milioni di Glitter's che mi guardano! O mi ascoltano! Insomma, lascio fare a Didi! Woohoo! Love me, love me, love me! Abbracciami! Love me, love me, love me! Dai, sbrigati! Bravissima, Didi! Hai vinto tu la sfida sulle Miracle Tunes! Woohoo! Evviva! Woohoo! Bene Glitter's, è arrivato il momento dei premi! Forza Contessina! Procediamo con l'unboxing! Ecco il primo dei due premi! Le cuffie delle Miracle Tunes! Oh, oh, che bello! Il Power Mic! Forza, apriamo, apriamo, apriamo! Bene Didi, procediamo con l'unboxing dei tuoi premi! Sono davvero contenta che tu abbia vinto questa sfida perché tua sorella non era molto convinta! Allora, Glitter's, oggi apriremo appunto due prodotti delle Miracle Tunes! Queste sono le cuffie, questa è la confezione, ci dice indossa le cuffie come una vera Miracle, infatti servono per immedesimarsi e diventare una Miracle! Le cuffie però non sono funzionanti, questa è una cosa che mi ha deluso un po', le trovate in tutti e tre i colori! Allora, eccole qui, poi dobbiamo montarle! Ecco qui la cuffia di Emily! È bellissima, è fatta molto bene, solo cercate di non pagarla tanto perché comunque, ecco, è solo per giocare con le amichette, avrei preferito fosse un minimo funzionante, sarebbe stato molto carino, almeno che avesse fatto qualche suono, qualche luce, invece è semplicemente così, però è fatta molto molto bene! Tu cosa ne pensi, Didi, da fan delle Miracle Tunes? Io penso sia fatta benissimo per giocare con le amichette, la trovo straordinaria, straordinaria davvero! Ottimo! Secondo premio? No, non si credo che lo scettro, è proprio lo scettro! E c'è Giulie qui, Giulie, hai visto? Ci sei tu qui! Sì, sì, lo so, siano proprio io! Ecco, questo sembra molto più interessante! Questo in retro ci dice che lo scettro si illumina e cambia colore e possiamo ascoltare le voci delle Miracle Tunes! Sono distribuiti da giochi preziosi e suggeriti dai tre anni in su! Glitters, guardate che bello! Questi possiamo cambiarli e diventare la nostra Miracle Tunes preferita! Eccolo qui, lo scettro è questo, è fatto super bene, super fedele a quello della serie TV! Possiamo mettere qui le nostre spille! Cioè, guardate, è proprio come nella serie televisiva, è perfetto! Adesso metterò le pile con la speranza di avere quelle giuste e lo faremo funzionare! Guardate che bello! Ve lo faccio vedere con poca luce, così possiamo vedere meglio tutti gli effetti! Dunque, allora, qui si spegne, poi c'è Hit e Spagnolo, però non ho capito perché sembra fare solo un suono! Forse agitandolo? Agitare e colpire! Ok, allora, ho letto il libretto delle istruzioni e dice di... Ok, togliere questo! Poi devo selezionare Hit e poi metterlo! Ci riusciamo? Wow, funziona proprio bene! Già, sentiamo! Ma sono io! È vero! Che figata! Ma a questo punto sentiamola anche in spagnolo Vediamo Ma la voce sembra un po' più grande però Già, infatti, non mi piace la mia voce in spagnolo Vediamo inserendo le altre, ovviamente le mettiamo in italiano Mettiamo quella di Jasmine Pronti? Wow, Glitters! Cioè, funziona veramente bene! È forte! E ora proviamo quella dell'Emily Ovviamente lei ama il viola Io adoro il viola Anch'io adoro il viola! Lo so Glitter, lo so Dunque, pronti? Italiano Inseriamo E... Wow, è bellissimo! Glitters, comunque sì, devo ammettere che con questo scettro mi sento una vera Miracles Tra l'altro, guardate, cioè, vi stavo mentendo Io ho la felpa viola Adoro il viola, quindi Siamo le guerriere Idol Miracle Youth Abbiamo i cuori malvagi Hai capito, Daisy? Eh? Daisy? Hai capito? Ma... Ma fai sul serio? Sì! Life Start! Ok Comunque è bello come scettro Lo ammetto Esatto, Glitters è veramente un bellissimo giocattolo Quindi il Team Glitter ve lo strastra consiglia per Natale O se volete anche prima Ma comunque se volete metterlo nella letterina di Natale Assolutamente sì Le cuffie invece non mi hanno tanto convinto Però, beh, trovo sia un bel completo Comunque per essere una vera Miracle Avere sia le cuffie che lo scettro Siamo le guerriere Idol Miracle Youth Yeah! Siamo i cuori malvagi Yeah! Ok Bene Glitters La nostra recensione finisce qui Fateci sapere cosa ne pensate Con un commentino qui sotto E mi raccomando Se questo video vi è piaciuto Mettete un bel pollice in su Cliccate qui per iscrivervi al canale E qui per non perdervi tutti gli altri video Dedicati ai vostri giochi preferiti Noi ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!